Mister Di Pasquale oggi è una vittoria preziosissima, spesso queste partite diventano le più difficili, era quasi un testa a godo e Lanciano guadagna tre punti fondamentali. Vabbè questo era l'obiettivo, poi sì queste partite sono sempre molto difficili, poi noi abbiamo avuto una settimana veramente travagliata già a Lanciano, quindi oggi avevo un po' timore sulla risposta della squadra, invece il risultato c'è stato, la squadra tutto sommato ha gestito la partita, anche se su ritmi lenti, però comunque l'ha gestita e questa è la cosa più importante. Mister, un vittoria importante anche in termini di classifica, Lanciano ha guadagnato punti sulle inseguitrici che potrebbero risultare importanti alla fine dei giochi, anche se non manca ancora tanto. Mancano ancora dieci partite, 30 punti a disposizione sono veramente tanti, per noi è importante adesso mettere Fieno in cascina, quindi il risultato di oggi era molto importante, poteva sembrare una partita scontata, invece quando si gioca con queste classifiche, che poi si cerca la partita della vita, la partita che salva l'anno, la soddisfazione di una squadra che sta soffrendo e noi l'abbiamo gestita bene. Mister, per quanto riguarda le condizioni di Antonio Petrone e Cristiano Verna, Lanciano continua ad avere grossi problemi, l'euro numerico a centrocampo li sta combattendo bene, però diciamo che questi giocatori farebbero come? Il vero problema adesso non è soltanto la gestione di Verna e Petrone, che ne hanno ancora per un bel po', è che stiamo mantenendo piccoli infortuni su altri giocatori che normalmente stanno andando in campo, e questa è la cosa che ci preoccupa di più, se si dovesse fermare qualche altro. Grazie a tutti.